Anticipazioni Beautiful, martedì 31 dicembre 2019. All'arrivo di Liam, Steffi è sola in casa. Il giovane viene messo subito al corrente di alcuni dettagli importanti riguardo all'adozione, ma soprattutto che è ufficiale l'arrivo della piccola Phoebe. Liam piange e quando poi vede la neonata abbraccia l'ex moglie e si commuove ancora di più. Steffi si allontana e il giovane solo si guarda intorno e si sofferma sulla foto che lo ritrae con l'ex moglie. Alla vista della piccola poi resta di stucco, la vede estremamente somigliante a Kelly. Poi nel prenderla in braccio avverte ancora di più una strana sensazione, una sorta di legame speciale. Taylor arriva a casa di Reese con un anticipo generoso per formalizzare l'adozione di Phoebe. L'uomo la ringrazia e le parla dei suoi nuovi progetti in ambito lavorativo. È certo che partirà in quanto ciò che desidera ardentemente è dimenticare la brutta esperienza vissuta a Catalina. Quando Taylor va via, Reese comincia a preparare le valigie in fretta e in furia e contatta lo strozzino per comunicargli buone notizie. Ha finalmente i soldi. L'usuraio quando scopre che ha con sé solo 50.000 dollari va su tutte le furie e lo minaccia, affermando che ucciderà Zoe senza perdere altro tempo. Reese spaventato contatta la figlia e le chiede di dirgli subito dove si trova. Lei afferma di essere insieme a Tiffany. L'aguzzino intanto prende dei guanti neri e li indossa. Poi si avvicina alla modella con fare cattivo. Il ginecologo riesce finalmente a rintracciarlo e gli chiede umilmente di non fare sciocchezze e di escludere dalla vicenda una povera innocente. Al prossimo episodio